Con questo progetto abbiamo unito finalità diverse, l'involgimento di più stakeholders, questa è una cosa importante, quindi per avere un contributo differente da parte di stakeholder differenti. Abbiamo lavorato sulle donne e contemporaneamente sulle nuove generazioni, con una filosofia che è quella del gruppo Bracco, che è di implementare l'empowerment e di far crescere lo sviluppo, non in logiche assistenziali, ma generando le condizioni per che questo sviluppo possa evolversi e crescere. Lavoriamo da questo progetto da dieci anni, siamo partiti dalle giovani generazioni, costruendo una scuola vera e propria che ha dato accesso alle università e creando quindi un'alleanza generazionale, che è quella che stiamo cercando di creare all'interno del nostro gruppo, quindi con un filone di continuità, di valori, di modalità di operare che uniscono l'interno e l'esterno. Cosa importante, questo progetto ci ha permesso di lavorare sull'engagement del personale, quindi fare in modo che attraverso un progetto cresca una cultura di responsabilità sociale concreta, quindi non fatta di dichiarati, ma portando a bordo dei progetti il personale, facendo capire altre realtà e facendo in modo che le competenze, le potenzialità che ci sono all'interno dell'azienda si trasferiscono e si espostino in altri contesti da cui però abbiamo imparato molto. Tengo a sottolinearlo perché noi abbiamo portato il nostro know-how, le nostre esperienze, ma da questa comunità abbiamo veramente imparato quali sono tradizioni, stili di vita e che cosa significa vivere in alcuni contesti e che cosa si può fare, quanto si può fare con relativamente poco, questo è un aspetto per noi importante di arricchimento culturale. Grazie per la visione!